Qui Raffaele Tovazzi per gli amici Tova e questo è Chi cerca Tova. Mi hai fatto un regalone di compleanno essere presente con me oggi. Ciao Marco! Carissimo! Come stai? Direi alla grande. Io pure, io pure. Ti confesso che questo, non so per quale ragione, ma lo sento il compleanno più felice di tutta la mia vita. E infatti stavo per dire tanti auguri, non tanti auguri diciamo classico, perché io ho l'abitudine di dire questa frase, tanti auguri di una bellissima rinascita su questo mondo. Perché noi ogni anno rinasciamo. Non so che ormai è troppo tardi, ma se tu sapessi dal punto di vista astrologico, di cui io ho fatto indagine e mi ho ottenuto le mie prove, che a seconda dal punto della Terra dove tu nasci, hai o i pianeti a favore o a sfavore, oppure i più importanti a favore e altri a sfavore. Mentre c'è un punto della Terra, qui c'è un fronteggio algoritmico incredibile, con dei computer, dei programmi fatti apposta, soprattutto ovviamente in America, dove ti dicono la posizione esatta dove tu dovresti rinascere, avendo in quel punto della Terra tutti i pianeti a favore. Questo cosa vuol dire? Che in quel punto della Terra, tutto quello che farai in quell'anno, essendo rinato in quel punto, dovrebbe essere con un po' il venti in poppa. Con questo lo vuol dire. Quindi sapere che tu sei rinato a Londra, bisognebbe vedere il tuo quadro astrale di oggi, se è favorevole o meno, ho capito? Fantastico. Però è una cosa strana, perché anche tanti anni fa, io ho sempre visto nei miei 40 anni, ma anche quando ero bambino, ragazzino, ma non ricordo come fosse un sogno, ero su una barca a vela di un signore che era amico di mio padre, e a un certo punto tra gli adulti si comincia a parlare di qual è l'età più felice della vita. E io ero un bambino, avrò avuto 8-9 anni. Le mamme cominciano a dire, beh, i 20 anni, 20 anni, libertà, libertà, puoi fare tutto, non hai vincoli. Io le guardavo e dicevo, boh, 20 anni, io ho in mente che a 20 anni qualche puttanata la farò, anzi, ne ho una mezza certezza. E poi questo saggio skipper prende la parola e dice, secondo me l'età della vita in cui la vita comincia a diventare veramente divertente è 40 anni. E la moglie gli fa, beh, 40 anni, 40 anni, però il meglio è passato. E lo skipper guardando l'orizzonte dice, no, no, per me la vita comincia a 40 anni. E io, che ero veramente un ragazzino, un bambino, neanche un ragazzino, mi son detto, questo signore qua, secondo me l'ha vista lunga. E da quel momento si è piantato un seme nella mia testa che i 40 anni, il compleanno di 40, sarebbe stata una svolta importante della mia vita. Ora, se tu mi chiedi, razionalmente, che cos'è cambiato rispetto a ieri, assolutamente nulla. Cioè, non ho ragionevoli prove per dirti che, ah, beh, oggi è tutto diverso. Ma c'è un'euforia che mi accompagna da qualche giorno e che stamattina è esplosa in una gioia pura. E posso raccontare in apertura quella strana sincronicità che è avvenuta? È meravigliosa, devi. Mamma mia, guarda, questa... Se la racconto a qualcuno e questo qualcuno non ci crede, non mi offendo. Capisco. Capisco perché... È un problema suo. È un problema suo. È un problema suo. Ma ti assicuro che è avvenuto e se non mi credi, chiamo mia moglie che te lo può raccontare a sua volta. Ora, io mi son messo, dopo la diretta che ho fatto con te venerdì scorso, a rileggere i tuoi libri. Uno in particolare, le coincidenze che cambiano la vita. Ha detto, va, rileggo così e entro ancora di più in affinità e in risonanza con quest'anima con cui sento questa affinità. Mi leggo questo libro ed è impossibile non farsi contaminare dalla gioia, dalla felicità, dalla magia di questi racconti. Io, era sera, chiudo quel libro e dico, certo che è da anni che mi dico che i miei 40 anni saranno un'età importante. Io, il compleanno di mercoledì è il compleanno che sento più importante di tutta la mia vita. Quanto sarebbe bello che accadesse qualcosa per dimostrarmi che sto andando nella direzione giusta e che questo quarantesimo è così importante. E allora formulo un pensiero, un pensiero a Dio, madre natura, universo, qualsiasi entità soprassensibile ci sia sopra di noi e dico, se è vera sta cosa, non come prova, ma mi porti un po' di magia nella vita? Mi fa accadere qualcosa? Ma no, un messaggino di un amico che non sento tanto tempo, che si ricorda, che compie, no, fai accadere qualcosa che sia inequivocabilmente oltre la ragionevolezza. Butto lì sto pensiero, ti rispetto, chiudo il libro, vado a dormire. Nel cuore della notte, non so che ora, perché non ho l'abitudine di avere il telefono accanto a me, di avere orologi, nel cuore della notte mi sveglio con una sensazione di gioia infinita, ma un benessere che avevo voglia di saltare giù dal letto e uscire di casa. Però dico, per decenza, spavento mia moglie se salto giù dal letto e faccio il matto in giù per casa. Cerco di contenere, godermi questa gioia finché albeggia e finalmente nell'albeggiare prendo il cane, la piccola London, così si chiama il mio golden retriever, e esco di casa. Sono lì, forse animato dal pensiero del giorno prima, che cerco qualche segnale. Sai quando ti guardi attorno della serie? Magari oggi succede, che ne sai. Butto l'occhio a terra, ah, quel giorno non porto con me il telefono, lo lascio a casa. Dico, se succede, deve succedere qualcosa, no, di clamoroso all'fuori, è troppo facile un messaggino, non mi interessa, devo tenere i sensi vigili sull'universo attorno a me. Vabbè, butto l'occhio a terra e vedo una lettera bianca e vedo che non c'è scritto l'indirizzo. Giro e vedo un indirizzo scritto col colore viola. Viola è uno dei miei colori preferiti da sempre. Butto l'occhio più in là e vedo un'altra lettera, anche questa, affrancata, con l'indirizzo scritto in viola. Borto l'occhio ancora più in là e trovo un'altra e un'altra e un'altra. Finché arriva la mia macchina che sta in strada e tutto attorno alla macchina ci sono queste lettere, queste buste. Ripeto, affrancate e con l'indirizzo. Conducono ai luoghi più remoti d'Europa, dell'Inghilterra, di Londra, fuori Londra e comincio a raccoglierle e comincio a pensare il colpo di vento l'ha sbattuta via. Forse qualcuno ha fatto uno scippo e rovistando per la borsa ha detto che me ne faccio delle lettere le butto lì a lato. Non fosse che cominciando a raccoglierle tutto attorno alla macchina le guardo un po' meglio e vedo che su ognuna di queste buste affrancate e indirizzate ai luoghi più remoti d'Inghilterra e dell'Europa senza mittente c'è una scritta birthday card happy birthday e rimango attonito così e vado da mia moglie e le chiedo le vedi anche tu? No perché sto cominciando a le vedi anche tu? Sì è incredibile cosa pensi di fare? Io dico guarda non c'è mittente allora cosa faccio? Raggiungo la prima cassetta delle lettere per imbucarle e far sì che questa persona che magari ha subito un danno le ha perse crede averle perdute non si sa comunque il suo messaggio arrivi a destinazione ma mi ha regalato un senso di benessere il fatto che ho formulato un pensiero sul mio compleanno e trovo decine di lettere di birthday card che mi ha fatto dire allora la magia esiste e forse se io quel giorno non fossi stato così ricettivo se quel giorno avessi avuto le palle girate per i mille problemi che ci raccontiamo nella vita se quel giorno avessi avuto il telefono in mano a chattare con qualcuno proiettandomi in un altrove rispetto a dove accade la magia magari quelle lettere avrebbero continuato a rimanere lì ma io non me sarei mai accorta e quindi magico come me lo spieghi sta roba qua non è innanzitutto il bello di queste cose è che non bisogna spiegarle ovvero perché tutte le coincidenze sono inspiegabili quindi sono meravigliose per questo è inutile che noi andiamo a cercare per forza attraverso il nostro ego la ragione la motivazione ci sono certe coincidenze che oggi hanno la possibilità di essere spiegate come le coincidenze premunitive ma tantissime altre come questa questo è un meraviglioso segnale che è ricevuto proprio chiamiamolo dall'universo e quindi il meccanismo se tu vuoi vedere le due scie le due scie sono di qualcuno che inciampa e di corsa non si accorge gli casano tutte queste lettere ma allo stesso tempo c'è un incrocio di destino che ti porta a farle cadere nel dialetto di uno che di lì a poco sta per compiere gli anni e nella notte fa quel pensiero questa è la magia e siccome per me la vita è magia tu sei semplicemente dentro la scia e ti lasci diciamo cullare da questa meraviglia che hai scoperto poi è vero che questa non è credibile a tutti e tutti diranno bah perché questo dipende sempre da come sei venuto fuori come sei cresciuto che condizionamenti hai ricevuto quindi è molto articolata la vicenda ma io ti assicuro che molte persone ti avranno fatto l'applauso sorriso e avranno detto ma che bel regalo che bella cosa proprio quindi credo che 40 anni sia una bella età te lo dice uno che è uscito dal tempo ma adesso ti dico sottovoce che io l'anno prossimo ne faccio 60 capisci che per me 40 anni è sei un pischello ma cioè io se ti penso a 40 anni cioè capisci abitavo Ibiza ecco ti dico solamente questo e poi e tutto il resto oggi ho due figli ho pubblicato otto libri che a 40 anni mi avessero detto tu tra 20 anni avrei pubblicato otto libri e avrai due figli e dico senti vai a cambiare indovino perché con me non funziona e invece è così quello che ti posso dire è che c'è un ordine delle cose questo è vero quindi quando le donne dicono a 20 anni sono gli anni dove uno può fare quello che vuole è vero si chiamano gli anni dell'esperienza questi sono dettati da Rudolf Steiner che nell'ordine delle cose descrive che dai 21 ai 28 sempre per 7 quelli sono gli unici anni dell'esperienza vale a dire che fino a 21 anni tu sei vittima degli altri a 21 anni ti danno una sorta di foglio rosa della vita ma non ti è andata ancora la patente devi fare un po' di pratica un po' di esperienza e quindi ecco che hai questi sette anni di disposizione nell'ordine delle cose attenzione e quindi tu in questi sette anni cosa fai? dovresti fare tutte le boiate esperienze possibili immaginabili perché sono gli unici anni che nell'ordine delle cose puoi fare e infatti se noi ci pensiamo abbiamo fatto un corso di laurea l'abbiamo cambiato siamo andati due anni in Australia abbiamo fatto l'Erasmus alla Valencia mi sono trombato 50 donne mi sono trombato 50 uomini non lo so ho provato le droghe ho provato i viaggi ho provato e sono degli anni dove tu veramente esci dal tempo e entri in un'altra dimensione poi a un certo punto a 28 anni ti dà la patente e ti dicono ecco adesso comincia a svolgere il tuo programma di vita cosa succede? che molto spesso quest'ordine delle cose ed è qui che interviene il libero arbitrio attenzione contrariamente a quello che si pensa e si crede sul libero arbitrio l'ordine delle cose può essere invertito vale a dire che a seconda di quello che tu hai vissuto fino ai 21 anni può succedere che tu per tutta una serie di necessità di bisogni di condizionamenti ricevuti magari fai l'amore per la prima volta a 19 anni con un ragazzo ti innamori e pur di scappare dalla famiglia dove magari ci dai quindi c'è un condizionamento dalla famiglia in cui stai vivendo vai a vivere con lui e fai un figlio a 20 anni sai quanti ne tratto di queste persone bene tu hai invertito quindi il libero arbitrio dov'è che agisce hai invertito una cosa che avresti dovuto fare un pochino più avanti ma tu hai la possibilità di farlo prima bene il libero arbitrio agisce sempre sullo spazio-tempo agisce sempre sullo spazio-tempo non è vero che il libero arbitrio è scegliere quello che noi vogliamo fare perché perché quello che noi facciamo è condizionato tant'è che Gurgiev diceva che il libero arbitrio innanzitutto ce l'hanno solamente le persone risvegliate e secondo lui le persone risvegliate sono il 30% dell'umanità quindi oggi stiamo parlando di 2 miliardi e mezzo di persone ma ce ne sono altri 5 e 5 e mezzo che non sono risvegliati e i risvegliati hanno la possibilità di scegliere il libero arbitrio è di scegliere a quali condizionamenti io mi affido nel senso che non vengo soggiogato e ci sto dentro e non me ne accorgo neanche perché non sono risvegliato sono meccanizzato ma lo posso scegliere questo è il primo punto il secondo punto il libero arbitrio agisce nella tua direzione del destino del tuo programma sullo spazio-tempo quindi vuol dire che tu certe cose le farai comunque ma quando le farai? ecco il libero arbitrio hai il tempo immagina di essere su una rotonda e tu hai il libero arbitrio di stare tre giorni sulla rotonda a un certo punto l'uscita dovrai prenderla a un certo punto uscirai puoi starci tre giorni come due minuti tanto ti fanno tutti ti lasciano tutti la precedenza ma è l'uscita è l'uscita che tu prenderai l'avresti presa sia due minuti dopo che tre giorni dopo ecco dov'è il libero arbitrio ok? chiaro quindi a questo punto il concetto fondamentale della nostra vita è che a 40 anni tu sei già in uno sviluppo che se hai invertito l'ordine delle cose succede che tu quello che dovevi fare a 20 anni lo farai a 40 cioè non è che non lo fai non lo posticipi è chiaro il concetto? perché per esempio dai 28 ai 35 anni ed è così è così perché io lo studio lo verifico giornalmente quindi tutti i miei casi lo confermano la donna ha un obiettivo e l'uomo ne ha un altro nel settennio 28-35 la donna ha l'obiettivo di mettere su famiglia e di procreare l'uomo ha l'obiettivo di raggiungere una posizione professionale un'ambizione un'assicurazione economica quindi sono due binari che vanno così una vuole mettere su famiglia vuole l'uomo affidabile e l'altro vuole lavorare quindi i due devono trovare un punto di incontro se no non si incontreranno mai le esigenze sono queste ho finito mi ha incuriosito provare a immaginarti a 40 anni totalmente ignaro di quello che ti sarebbe accaduto o avresti fatto accadere o a tratto nei vent'anni successivi e voglio di raccontarmi un po' com'eri alla mia età allora io a 40 anni ero un imprenditore che gestivo alberghi avevo creato una mia società avevo dieci alberghi in gestione fatturavo diciamo dal 2002 in euro 10 milioni di euro ero un pazzo scatenato non mi fermavo mai ovviamente mi interessava molto l'ambizione del lavoro e di tutto ma attenzione io a 40 anni abitavo Ibiza già da 5-6 anni quindi avevo il mio punto di riferimento a Ibiza io sono residente in Ibiza da 25 anni e quindi il mio punto di partenza era sempre lì e tornavo lì ma in quell'anno proprio a 40 anni fatto molto importante io ho incontrato il mio maestro e quindi ecco che da lì quello che era il mio hobby perché io già a 30 anni ho cominciato a raccogliere coincidenze storie a studiare i libri importanti era un mio hobby però quando andavo a vedere gli alberghi nei Caraibi mi prendevo sti libroni e leggevo i libri tutto il viaggio perché li segnavo li leggevo prendevo nota poi raccontavo le coincidenze che ci trovavo dentro insomma ero già e io a 40 anni il maestro appare quando l'allievo è pronto ho incontrato il mio maestro che mi ha tenuto seco per 12 anni poi a un certo punto mi ha lasciato andare e dopo qualche anno non se ne è anche andato se ne è tornato a casa dall'altra parte a quasi 100 anni è stato un maestro molto particolare perché non era come uno possa immaginare il guru o che ne so era uno scricciolo di uomo che io chiamavo un folletto ne parlo tantissimo nel mio libro nel mio primo libro il famoso ricercatore di emozioni che adesso si chiama una ragione per essere qui il nome è Giuseppe Savoca perché lui era un siciliano nato a Paternò sulle pendici dell'Etna che era già morto all'età di 5 anni per 3 ore e in quelle 3 ore che gli sconvolsero la vita lui stava andando a prendere segrete del papà che non c'era il tabacchino nel suo paese doveva andare al paese di sotto siccome c'era sempre salire e scendere il papà ha detto Giuseppe vanno a aprire le sigarette e lui per fare una scorciatoia ha preso un muretto che avrebbe saltato i primi due tornanti ha preso male con la scarpa e caduto giù ha picchiato la testa e è morto in un paese di 100 abitanti dopo un'ora lui era già stato lavato stiglato cambiato era già arrivato il prete era già arrivato il messo comunale mentre lui con tutta la gente intorno stava tranquillamente seduto ai piedi di un albero a parlare con un vecchio di 3000 anni che gli svelava i segreti dell'universo mentre tutti intorno piangevano la salva lui dopo tre ore cosa molto insolita ovviamente tre ore ma scusa come hai fatto dopo tre ore avere il corpo ancora tutto a posto e non contaminato sapessi quanti erano lì a tenerlo tutti in vita erano tutti lì intorno lì ovviamente parliamo di altro e quindi lui si è risvegliato con il dono del non oblio vale a dire che ha avuto in dono il ricordo di quello che gli era stato raccontato e lui comincerà una vita come dire parallela da una parte andrà a fare la campagna di Grecia e quindi con l'otto settembre viene arrestato ma poi rimane là perché si innamora di una ragazza greca quindi vivrà 50 anni ad Atene sarà un normalissimo operaio di una fabbrica ma dall'altro di una potenza inaudita di una capacità medianiche sensitive chiaroveggenti guaritrice è una cosa impressionante dove io ho assistito a cose che prima dicevo no fatemi vedere sono su scherzi a parte no sono in un film no e poi alla fine invece era tutto vero e gli insegnamenti che ho ricevuto da lui sono stati veramente meravigliosi ecco e tra l'altro sono tutti importati nel mio primo libro ma se dire una cosa che cos'è accaduto nella tua mente al di là di questo incontro dico proprio a livello di pensiero di consapevolezza quando quello che era un hobby è diventato il centro della tua vita ok in quel preciso istante te lo chiedo perché sai la differenza tra un hobby e un lavoro non lo definisce certo che uno è pagato e l'altro no che cosa definisce la differenza tra un hobby e un lavoro e quando una cosa diventa neanche un lavoro ma una missione di vita come nel tuo caso cosa subito io mi sono accorto di questo nel momento in cui nelle mie tavolate nei gruppi che creavo in salotto e raccontavo io mi sentivo da dio io mi sentivo bene ero felice di raccontare queste cose e quindi questa sensazione ho detto non è possibile che io abbia questa questa indole così forte poi come tu vedi io sono un comunicatore quindi io comunico di parola comunico di libro comunico di quello che ti pare ma alla fine sono un comunicatore e quindi avendo l'attenzione della gente perché se tu parli e tu ti dico sia appena messo mi interessa tutti lì a bocca aperta da lì è nata questa mia indole che poi è sfociata nel libro se non avessi scritto il libro probabilmente avrei avuto difficoltà poi a diventare quello che sono perché è l'ordine delle cose scrivi un libro poi ti cerca Mondadori capisci che dici allora vuol dire che sei sulla strada giusta e quindi è lì è cominciato tutto il percorso che non è stato affatto facile sai perché te lo chiedo perché io ho arrivato a 40 anni ho il privilegio che mi sono costruito di aver raggiunto non solo tutti gli obiettivi che nella vita mi ero posto ma aver doppiato gli obiettivi traguardi che pensavo di poter raggiungere e ho capito da qualche mese a questa parte che nessuno degli obiettivi che ho raggiunto mi ha reso una briciola più felice nessuno sembra cinico come ragionamento mi ha reso felice un processo creativo che consideravo valido solo in chiave funzionale cioè è per raggiungere quell'obiettivo fatto sta che io sono entrato un po' in crisi quest'anno quando ho raggiunto non il top ma il top del top di quello che neanche sognavo di immaginare di raggiungere nel mio settore parlo di diventare presidente è molto incuriosito parlo di diventare presidente è molto incuriosito no no ma guarda oltre a quello che già mi sono inventato un lavoro perché l'idea del filosofo esecutivo che fa consulente per multinazionali fondi di investimento è una roba che mi sono inventato già da sola arrivare quindi il centro del pensiero ma arrivare ad essere chairman di fondi di investimento che operano tra Londra New York in cima apprendoti ad una ricchezza infinita e oltre a quello che puoi immaginare di guadagnare una vita e in quel momento considerare nulla di quello che hai al di fuori degli effetti delle cose veramente importanti significativo per te e trovare te stesso e il sorriso nell'attività che non potrebbe essere più marginale rispetto a quello che ti permette di tenere in piedi tutto questo per me è condurre questo podcast e io mi cominciavo a dire scusami da quella parte lì c'è successo affermazione denaro oltre l'inimmaginabile da questa parte qua c'è solo un microfono e parlare con un amico ma com'è che quando mi sveglio la mattina e ho l'opportunità di mettermi gratuitamente davanti ad un microfono quella mattina assumo un significato mentre quando non lo posso fare mi sembra un giorno sprecato ed è da lì che a settembre mi sono detto è un dono che faccio a me stesso andare in diretta a fare una cosa che mi piace ogni singolo giorno e prima tu mi hai fatto una domanda prima di cominciare ti chiedo non ti ho risposto quindi ti chiedo di farmela anche in questa diretta così creiamo beneficio collettivo nella risposta sui numeri dei video sì ti ho chiesto come mai degli interlocutori così interessanti perché ovviamente in questi giorni ho guardato qualche tua intervista degli argomenti così interessanti hanno qualche centinaio di click di visualizzazioni mentre altre volte io vedo delle boiate pazzesche che hanno mille o decine di migliaia di contatti ti sei mai chiesto perché domanda correttissima e io il mio perché l'ho trovato proprio nell'assenza di affermazione in un podcast qualche settimana fa raccontavo di questo pensiero in cui mi sono imbattuto in cui Seth Godin diceva c'è una domanda che spesso si fa ed è che cosa faresti se avessi la certezza assoluta di ottenere successo e lui dice domanda che scatena l'ego e genera solo frustrazione in chi se la pone e tenta di trovare una risposta e lui dice in maniera creativa la vera domanda è chiederti che cos'è che faresti nonostante avessi la certezza che quella cosa non ti produrrà dei risultati perché quell'attività che fai come emanazione del tuo stesso piacere semplicemente servendo a te stesso probabilmente ti porterà a raggiungere scopi che ti precludi grazie all'approccio predeterministico della società occidentale io ascoltando quella frase leggendo quella frase mi sono reso conto che spesso porsi degli obiettivi nel porsi degli obiettivi noi emaniamo tutte le manipolazioni i precondizionamenti a cui siamo stati disposti nella vita e crediamo di sapere quello che desideriamo veramente ma la verità è che chi siamo veramente respira di più non in quelle cose che producono risultati ma quelle cose che non possiamo fare a meno di fare nonostante a numeri evidenti non producano risultati quindi paradossalmente sarò più spaventato se quei numeri cominceranno a salire perché fin tanto che continueranno a rimanere così bassi anche rispetto ad altri video che in passato facevo in cui spiegavo la tecnica di pnl la tecnica di manipolazione la tecnica di comunicazione proprio perché non se li incula nessuno scusami e io continuo a farli senza una ragione specifica qualcosa mi dice che sta cosa qua mi rivela uno scopo è per quello che che ed è un hobby ed è un hobby per me perché non ci vivo di questo e ne traggo piacere anziché frustrazione per quello che io ti ho chiesto prima quando a 40 anni hai capito che quella cosa che facevi per passione rivelava uno scopo e la domanda successiva ancora più impegnativa è questa come si fa a capire qual è il proprio scopo nella vita? Allora un conto è lo scopo e un conto è il motivo dicasi motivo questo è un'argomentazione molto delicata ma molto molto importante per almeno di noi che motivi hai tu la mattina quando ti alzi dal letto quali sono le motivazioni che sostengono la tua vita cosa fai di motivante nella tua vita premesso che i motivi possono essere anche numerosi e possono anche cambiare ma li devi avere quindi la motivazione dell'esistenza deve essere quotidianamente manifestata detto questo poi vi dirò cosa succede se una persona è senza motivazioni perché non è solamente un discorso di depressione detto questo nell'ambito delle motivazioni che cosa fai che ti piace veramente? Quante persone svolgono un mestiere un lavoro che gli piace da impazzire e quanti invece lo fanno perché devono portare a casa i danè per pagare l'affitto di casa questa è la grande differenza quindi prima di parlare dello scopo della tua vita è importante parlare di che motivazioni ti sostengono perché se tu butti via la tua vita facendo una cosa che non ti piace solo per avere i soldi per pagare l'affitto devi a un certo punto renderti conto che è un gran peccato perché se tu sai fare bene una cosa facciamo l'esempio del lobby se tu hai un hobby che sai fare bene facciamo un esempio ancora più terra terra che tu sai cucinare bene perché ti piace perché non vai a fare il cuoco in un posto che ti sanno apprezzare perché a te piace da impazzire cucinare o perché non ti apri tu un ristorantino con 15 20 coperti infatti è l'epoca coronavirus ma con 15 20 coperti dove tu ti diverti come un pazzo la gente gode i tuoi manicaretti e guadagneresti molto di più che fare il dipendente da qualche parte semplicemente perché tu sei stato condizionato sei stato messo in una situazione dove mi fa venire in mente il famoso film di Checco Zalone e poi vado che il posto fisso il posto fisso è vero e questo ovviamente va a gambizzare la tua vita diventi frustrato alla fine fai una cosa dove se non trovi esternamente al lavoro qualcosa che ti gratifica ha voglia di venire fuori posso lanciare una provocazione Marco una provocazione di quelle un'entrata gamba tesa sapendo che sei strutturato e in grado di accoglierla e ribaltarmi c'è una bella differenza tra un hobby che ti dà piacere ed un lavoro mi spiego meglio è facile per me dire ho un lavoro mi piace non mi piace funziona non funziona ma una volta a settimana una volta al mese quando faccio un podcast o tu vuoi fare radio o quando vado in radio ah lì sì che sto bene però devi sottoporre quella tua passione ad uno stress test di intensità mi spiego meglio cucinare una volta al mese perché hai le persone che ami i tuoi amici a tavola è uno sport farlo con intensità ogni giorno è lì la prova del nove ed è il motivo per cui io mi son detto ti piace sta cosa allora per quale diamine di motivo è un hobby periferico nella tua vita professionale che in questo momento è instradata su altre cose per capire se quello scopo non ti alimenta semplicemente perché è diverso dalla routine non è una fuga ma è un verso devi sottoporlo ad intensità ed è lì che secondo me la maggior parte delle persone molla perché non basta dire ah il mio sogno è sempre stato di fare quello perché quando faccio quello una volta all'anno allora sto bene eh no se davvero assumi una responsabilità rispetto a quella passione perché l'inconscio ti dona delle informazioni il piacere l'emozione il sogno sono informazioni se tu le accogli è chiaro che tu devi metterlo alla prova del nove dell'intensità perché fare le cose è una cosa fare le cose in modo professionale è un'altra e io sto interpretando questa chiamata come se fosse un lavoro nonostante sia totalmente alto rispetto al mio lavoro capisci il discorso cioè non basta sicuramente comunque rimarrà propedeutico al tuo lavoro comunque ha a che fare col tuo lavoro anche quello che stai facendo adesso però io ti rispondo così è vero che puoi andare sotto stress ma se io ti dicessi che io tengo dei corsi sul destino per esempio tengo varie tipologie ma uno sul destino che dura otto ore tu mi credi se io ti dico che lo rifarei ogni giorno per otto ore certo certo quindi io se faccio una cosa che mi piace cioè l'attore di teatro che è in tournée nei teatri di tutta Italia non va a recitare ogni volta e ha un pubblico diverso e ci mette sempre la stessa carica totalmente mi piace totalmente mi piace impazzire quindi lo stress è vero ma è uno stress positivo io godo a dire quella battuta che so che la gente si sganascerà da ridere guarda su questo su questo mi ritrovo tu pensa che le motivazioni che tu dicevi prima a un certo punto devi metterle anche al vaglio dell'approvazione familiare possiamo tutti quanti dire eh ma io sono superiore rispetto a tua moglie ha un potere di condizionamento su di te i tuoi genitori hanno un potere di condizionamento su di te come no? io quando ho scelto di correggere la rotta anzi o meglio quando la vita mi ha corretto la rotta portandomi su una cosa che mi appassiona che oggi rappresenta il centro cioè il podcasting io avevo anche un po' contro la famiglia cioè mio padre stamattina mi ha chiamato per per farmi gli auguri e mi fa ma io ogni tanto ti seguo ma riscontri da quella roba lì quella roba lì è questa no? e io ridendo rispondo no e lui mi fa ma chi te lo fa fare? non lo so però devo farlo perché non c'è un singolo giorno in cui dica ma vedi perché le persone sono diverse ognuno ha la sua verità è vero ognuno ha il suo discorso quindi tuo padre che ha un'altra impostazione mentale un'altra derivazione ti fa questa domanda quindi non è più anche ognuno ha la sua verità non puoi e questo è il bello della vita cioè proprio la frammentazione più totale poi ovviamente tu cosa fai? vai a vibrare con le persone che vibrano come te vorrei finire il discorso sulla motivazione perché è molto importante vedi ci sono coppie e questo l'ho letto sul giornale oggi l'ho letto su Repubblica questa mattina di due una coppia di anziani purtroppo di 65 anni sposati da 65 anni che sono morti lo stesso giorno in ospedale per il covid ma io di questi casi ne ho a decine archiviati addirittura lui si sente male i figli lo portano all'ospedale lei sta benissimo a casa ad aspettare lui non ce la fa muore e i figli dicono aspettiamo un attimo a dire la mamma prima che gli venga con colore anche lei arrivano a casa era morta anche lei quindi qui arriviamo addirittura in una situazione e di queste notizie ce ne ho una trentina archiviate sono magiche perché sono magiche perché non hanno bisogno di informarsi telefonarsi le anime l'anima questo è il concetto l'anima quando l'uomo non ha più una motivazione abbandona il veicolo e se ne torna a casa la mancanza di motivazione è la causa che porta poi l'effetto della malattia l'effetto delle conseguenze quindi questo è il messaggio importante e di questi casi ne ho decine capite cosa voglio dire quindi motivatevi e soprattutto non mettete le vostre motivazioni solo nei figli perché i figli hanno il loro l'ho messo in un boccale di oggi i figli hanno il loro destino la loro vita tu non ti puoi aggrappare come una bisognosa solo al figlio perché se il figlio non c'è più tu cosa fai scompari con lui sprofondi con lui vi ricordate Sandra Mondaini Raimondo Vianello vi ricordate quello straziante Raimondo Raimondo se vuoi una coincidenza che ti fa saltare il cappello che c'ha in testa è un fatto realmente accaduto 12 anni fa uscito sul Corriere della Sera addirittura il noto comico romano Maurizio Di Battista ci ha fatto per una vita una gag perché lui aveva la usanza di mettere fuori gli articoli giornali e commentarli guardate è una storia pazzesca che ho messo anche nel mio libro una ragione per essere qui ma era veramente accaduto gli fa capire il mistero della vita donna ungherese follemente innamorata di un ingegnere italiano motivazione della sua vita è l'amore per quest'uomo le donne dell'essere poi sono molto portate a questa sorta di devozione quasi geisha educate dalle nonne la nonna ti forma a dedicare la tua vita alla cura dell'uomo esattamente quindi questa donna giovane senza figli felicemente innamorata di quest'uomo secondo piano di un palazzo d'epoca di una via centrale di Budapest quella mattina suona il telefono e la donna in servizio comunica che ha avuto un imprevisto e non può venire a fare le pulizie poco male la donna si mette lei a fare le cose principali a sistemare un po' il tutto a un certo punto prende la giacca che aveva lasciato nel suo studio suo marito e la va a appendere nell'armadio delle giacche e vede appendendola che dentro la giacca c'è un angolino bianco di una busta e quindi tutta incuriosita va a prendere questa busta e vede che ha indirizzato una donna che non è lei quindi ancora più incuriosita apre la busta e ahimè scopre che il marito aveva un amante e quella era una lettera d'amore che il marito si era terribilmente dimenticato di imbucare ed era rimasta nella giacca in quel momento la sua motivazione finisce e scompare non ha più nessuna motivazione vede tutto nero corre in bagno vomita tutto riesce dal bagno con in mano questa lettera attraversa il salone apre il davanzale si mette in piedi sul davanzale con in mano questa lettera chiusa in mano mentre lei piange di rotto la gente che cammina via l'alberato le macchine che scorrono tutto succede in una manciata di secondi nessuno si accorge di niente questa dalla prena dalla disperazione decide di farla finita e si va a sfracellare sul marciapiede solo che invece di sfracellare sul marciapiede prende un passante ignaro che lo colpisce sul colpo così e muore sul colpo e lei con un sacco di fratture si salva la vita mentre questo passante muore ma la cosa più pazzesca la cosa più assurda la cosa più incredibile è che il passante era il marito che stava tornando a casa io credimi Raffaele è una vita che cerco di comprendere questo disegno incredibile io devo continuare a vivere e tu no guarda ti assicuro ne ho parlato anche con amici fisici tutto di statistica nessuno ha saputo spiegarmi e dico guarda anche se l'avesse visto è altamente improbabile che avesse potuto prenderlo perché il movimento non può permetterti di vedere e andarmi a prendere capisci e invece lei senza vedere niente l'ha preso in pieno e questa è una storia vera che spiegazione gli diamo la spiegazione è anche quella comportatevi bene con le vostre mogli di base nel dubbio nel dubbio rispettate le vostre mogli rispettate le vostre mogli e poi se dovete proprio farla fatela bene non fatela bene lasciando la busta nella lettera allo schienare la sedia quindi questa ecco questo è per dirti quindi le motivazioni sono determinanti e a questo punto ci catapultiamo nello scopo allora quindi se capito bene scusami a beneficio dei nostri ascoltatori la motivazione è su base quotidiana è necessaria addirittura per vivere e rappresenta dove sta il punto dove tu trai piacere nel tuo quotidiano nel momento in cui trai un piacere esterno a te legato alla vita di un'altra persona sei comunque prigioniero di questa persona perché viene a mancare questa persona viene a mancare il senso nella tua vita quindi se ho ben capito è importante alimentare le proprie motivazioni su base quotidiana regalandosi quotidianamente attività che ci danno piacere corretto che ti motivino magari uno è motivato a portare le pecore in giro motivati a portare le pecore in giro va benissimo chiarissimo chiarissimo stiamo talmente diversi l'uno dall'altro e meno male se no faremo tutte le stesse cose quindi attenzione che la motivazione non è solamente nel fare ma è anche nel pensare è anche nelle emozioni quindi la motivazione noi la troviamo in tanti aspetti io dico sempre quando esci dal tuo letto ricordati col piede sinistro mentre metti giù il piede sinistro e dire gra e metti giù il piede destro e dire si è e poi ti tiri su e fai prendi consapevolezza che sei vivo che respiri che è la tua vita guarda caso il coronavirus dov'è che intacca? intacca sui polmoni prendi coscienza che c'è i polmoni che respirano e senti proprio che tu sei vivo e sei vivo e poi dici cazzo che culo che sono su questo mondo che meraviglia che meraviglia di mondo e quindi come faccio io a essere su questa meraviglia di mondo rendemene conto? comincia a motivarti già il fatto che sei vivo e quindi la parola principale è stupisciti comincia a stupirti scusa ma io come faccio a stupirmi? ti devi stupire semplicemente se riesci a stare nel qui e ora nel qui e ora vuol dire che tu con un'antenna come hai fatto tu senza cellulare quella mattina con un'antenna guardi in giro quello che accade e allora può capitare che vedi un bambino che fa una caduta buffa di due anni in un parco e ti stupisci della sua tenerezza e ti fai un sorriso mentre lo guardi oppure io l'altro giorno prima di tutto sti blocchi regionali stavo rientrando da Milano e c'era un meraviglioso tramonto e ho messo le quattro frecce e mi sono goduto in quei tre minuti il mio tramonto ho messo su un pezzo di Vangelis che avevo in macchina me lo sono goduto in pieno e poi mi sono preso sono ripartito vuol dire che ti devi stupire di quelle cose che all'apparenza sono semplici e scontate e scontate non sono perché tu sei vivo e questa è la cosa più importante che noi dobbiamo ricordarci ogni giorno tu sei vivo allora a questo punto stavo dicendoti che sconti ti do solo un piccolo riferimento bibliografico c'è un bellissimo libro che sto leggendo dell'attore Matthew McConaughey Greenlights si intitola è appena uscito fresco fresco ed è incredibile quante coincidenze e sincronicità siano presenti nella sua vita così come fatti che lui stesso fa fatica a spiegarsi lui pochi lo sanno si era iscritto alla facoltà di legge per diventare avvocato ad un certo punto si trova sul divano tre ore prima di fare un esame non aveva studiato sapeva di dover studiare sceglie di non farlo ha delle riviste di sport sceglie di non guardare riviste di sport non accende la televisione si imbatte in un libro apre sto libro e questo libro gli dice quanto sia importante scrivere i propri pensieri e quindi alimentare quello che nella vita si sogna di fare lui che cosa scrive? scrive una lista di cose di successi che nella vita avrebbe voluto raggiungere tra questi c'era molto prima che lui scoprisse di voler fare l'attore molto prima che lui si iscrivesse all'accademia molto prima che lui diventasse un bravo attore perché ricordiamolo lui era considerato un bello ma scarso a recitare ebbene lui leggendo questo libro scrive una lista che è presente scritta di sua mano in questo libro in cui dice vincere un Oscar come miglior attore e lui si è dimenticato poi questa questa lista perché era ridicola manco sono un attore manco sto studiando addirittura neanche diventare attore vincere un Oscar come miglior attore ebbene gli è ricapitate in mano questa lista dopo aver vinto l'Oscar come miglior attore protagonista di Dallas Buyers Club scusami quindi veramente un bel libro scusami e dentro c'è un passaggio interessante che dice la destinazione inevitabile si chiama morte l'approccio però è soggettivo a quella destinazione che si chiama vita nella sua semplicità è brillante stupendo è un attore che io adoro magnifico ma nel mitico film Interstellar per me rimane proprio da brivido cioè quella concezione del tempo che solo Nolan riesce a esprimere anche nel contorto Tenet che è l'ultimo che ha fatto devo dire che veramente ti lascia bocca aperta cioè per me è un ingegno che è stato messo a disposizione dell'umanità per un breve tempo ovviamente ma meno male che è ancora 50 anni quindi può fare ancora molto quindi non vedo l'ora di leggere quel libro lì in italiano perché non ho quella padronanza inglese per potermi godere tutte le sfumature inglesi e quindi dicevi lo scopo come? dicevi lo scopo la motivazione l'abbiamo compresa parlavamo dello scopo quindi lo scopo non è che uno dice lo scopo tutti devono diventare il Mahatma Gandhi o Madre Teresa di Calcutta perché poi c'è anche questo questo stereotipo ma lo scopo io perché ognuno apporta all'ordine delle cose apporta in questo enorme incredibile diciamo universo nel suo piccolo come tante formiche come il famoso discorso che siamo tutti collegati quindi che cosa fa il batto dai farfalla che cosa fa l'ape che se scomparisse l'ape in cinque anni scomparirebbe la terra stessa disse Einstein perché? perché c'è tutto un collegamento quindi tu in tutto in questo enorme collegamento come vuoi apportare? che scopo hai portato? io adesso non vorrei arrivare sul pesante ma nell'ordine delle cose ci sono anche persone che soffrono e che hanno dei dolori e che magari vengono manifestati e quello stesso è lo scopo perché la gente deve capire deve sapere deve imparare a differenza di quello che hanno loro vedendo gli altri i valori di certe vite i valori di certe cose quindi ci sono certe vite che l'anima sceglie prima di arrivare al mondo che magari durano poco ma che ha uno scopo così potente così pazzesco che alla fine all'anima gli importa poco quanto duri la vita perché tanto questo è un game è un gioco noi poi ce ne torniamo dall'altra parte ovviamente uno ha scritto sotto nel mio il nostro podcast dell'altra volta ma questo signore dovrebbe essere chissà chi se dice che ha le prove della sopravvivenza dell'anima io le prove ce le ho tutti i giorni ma non è un discorso legato dalla fede ma da dei riscontri poi se mi vuole contattare glieli spiegherò perché questa non è la sede ma non sono così diciamo poco umile o presuntuoso colui che presume ti dico questo perché faccio questo lavoro da tanto tempo e quindi ti dico che c'è la sopravvivenza dell'anima che non è solamente un discorso di fede è un percorso laico fatto di studi di verifiche di documentazioni e di riscontri una per tutte io collaboro ho collaborato negli ultimi nell'ultimo anno con la università di Padova facoltà di psicologia dove hanno creato un gruppo di ricerca questo per dieti che abbiamo portato dei risultati quindi caro signore che scrivi questa frase prima di parlare documentati in modo tale perché poi ci sono tante pubblicazioni e tanti anche i miei discorsi che dicono quello che sto sostenendo chiusa questa argomentazione lo scopo di ognuno lo trova comunque sempre solo quando comincia ad ascoltarsi a sentirsi e non a ragionare perché l'ego purtroppo ci porta sempre nella strada sbagliata quindi se vuoi sapere quello scopo della tua vita potrebbe essere anche piccolo 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 così ma ti assicuro che anche quello piccolo piccolo così diventerà comunque importante ma è il sai cos'è la cosa insostenibile è il io dico spesso questa cosa mi rendo conto quanto è impopolare perché incasso insulti ogni volta che la dico non avete idea dell'infelicità che porta raggiungere un obiettivo che non desideravi veramente cioè la cosa peggiore che ti può accadere quando tradisci il tuo scopo è raggiungere comunque il successo perché non ti sai spiegare per quale ragione quella cosa ha funzionato ma tu non ti senti bene e quando dici anche lo scopo può essere piccolino lontano dal dall'ego è anche vero che nel momento in cui in quello scopo che può parire piccolo ma è grande cosa per te tu provi un benessere che ti senti come nell'utero materno cioè ti sembra di non non senti il bisogno non di motivazioni ma di obiettivi perché qui c'è tutto difatti quando quando parliamo di obiettivi ricordiamoci che spesso la maggior parte delle persone delega ad un'altra dimensione del tempo e dello spazio la propria felicità e quindi gli obiettivi sono spesso dei sabotaggi dell'ego che ti dice quando avrò la Porsche quando avrò la villa quando avrò un milione quando avrò allora sì che sarò felice poi magari quelle cose le ottieni e dici cazzo la mia vita è più miserabile che mai com'è sempre così com'è e volevo portare una domanda tu l'hai letto il codice dell'anima di Hillman anche dirla perché domanda del cavolo che ti ho fatto è consumato allievo di Jung colui che ha reso decifrabile Jung che può risultare spigoloso al profano lì si viene espressa in maniera chiarissima un'idea un concetto che l'anima è il diamond l'anima conosce il proprio destino e talvolta opera dei sabotaggi perché conosce che nel compimento del proprio destino c'è anche una grossa parte di dolore io qua volevo chiederti se tu conosci la storia di Alan Berg raccontata un po' cambiata nel film Talk Radio di Oliver Stone Alan Berg è una delle storie più appassionanti della comunicazione a livello mondiale lui nasce in una famiglia ebrea e costantemente in conflitto col padre che rinnega il proprio essere ebreo perché dentista ci teneva ad ammorbarsi i pazienti cristiani quindi lui in casa faceva l'ebreo fuori faceva finta di non essere ebreo pur di avere questi clienti questa ipocresia interna provoca in lui un disagio un forte senso di ribellione diventa un brillante avvocato e si mette a difendere i malavitosi di Chicago totalmente incurante dei benpensanti dei perbenisti eccetera eccetera a un certo punto un tumore al cervello manda all'aria tutte le sue certezze intorno a ciò che è giusto ciò che è sbagliato cos'è cosa non è lo rimette in pista e va a fare il ciabattino il venditore di scarpe quindi abbiamo un avvocato a cui viene destrutturata completamente la vita abbandona la carriera forense e si mette a vendere scarpe il ragazzo l'uomo a questo punto l'uomo è talmente brillante che nell'interagire con i clienti scopre che uno dei suoi clienti che viene lì a comprare scarpe è un conduttore radiofonico e dice senti tu fai morire da ridere quando vendi le scarpe ti va di venire una volta assieme a me e sparare le tue minchiate in radio perché secondo me puoi piacere ora va ogni tanto continua a fare il ciabattino il venditore di scarpe ogni tanto va fatto sta che a un certo punto questo talk radio speaker abbandona e designa lui come suo erede dice lascia star quel lavoro questa è la tua strada segnalo a radio che dovete assumere questo qua perché secondo me è un fenomeno lui a 40 anni comincia il suo primo lavoro nella radiofania lavora nella radiofania pochissimi anni meno di sette anni rivoluziona completamente completamente la tecnica di conduzione radiofonica perché al tempo il radio dj era un ammorbatore di pubblico dava sempre ragione dava spazio a tutti diceva poverino chiedisco a voi ascoltare diamoglielo eccetera eccetera e lui comincia invece a smascherare l'ipocrisia tipicamente americana dando contro a gente del Ku Klux Klan mostrando il razzismo presente tuttora negli Stati Uniti d'America e quindi mostrando come dietro il perbedismo americano ci sia in realtà agghiacciante di ipocrisia rancore che lui comincia a svelare all'interno del suo show basato sulla verità ecco la storia racconta che a un certo punto il capo del Ku Klux Klan americano un bel giorno lo aspetta fuori dalla radio e lo giustizia morto allora io quando leggo la storia di Alan Berg raccontata bellissima in un podcast di Radio 24 con Enrico Ruggeri il Falco e il Gabbiano io non posso non pensare che sto qua il suo destino era nella conduzione radiofonica e in questo podcast in cui Ruggeri racconta la vita interviene anche Giuseppe Cruciani che ammette senza Alan Berg non ci sarei stato io non ci sarebbe stata la Zanzara non ci sarebbe stata la rivoluzione nella radio che finalmente raccontava la verità oltre quello che la gente amava sentirsi dire ma questo rispetto alla sua vita la radio professionale l'ha fatta per 3-4 anni un battito di ciglia nella sua intera vita ma talmente scomodato lo status quo che sono arrivati a farlo fuori dopo anni di minacce indirette eccetera eccetera ucciso vogliamo forse dire che la sua anima ha cercato in ogni modo di scappare a quella fine perché è una fine veramente di merda essere fucilato fuori dal luogo del lavoro mentre cerchi di raggiungere la tua amata sposa perché sapeva la denistellazione conosceva il dolore conosceva quella sofferenza e ora ti faccio passare attraverso mille storie che tu ti racconti ma è davanti a quel cazzo di microfono che alla fine andrai a finire e proprio essere messo davanti a quel microfono ti porterà alla fine della tua vita dico questo perché Hillman racconta del famoso torero che aveva paura dei tori e scappava dai tori e poi è morto per colpa di un toro allora ci sta che questa storia di Alan Berg che ha cambiato per sempre la storia di un settore sia uno specchio della consapevolezza dell'anima che talvolta fa di tutto un po' per stare alla larga da quel destino considerandolo comunque inevitabile non puoi farne a meno è inevitabile non puoi farne a meno e il più delle volte non sai perché ma comunque tu non puoi farne a meno hai detto una cosa sacrosanta cioè l'anima io dico sempre che noi non abbiamo un'anima noi siamo anima e questo concetto è molto diverso perché noi siamo abituati a sempre dei condizionamenti a ragionare in un certo modo ma se voi entrate nella idea nel messaggio che io adesso vi do che noi siamo anima che per poter manifestarsi in questa dimensione che è dettata dallo spazio e dal tempo ha bisogno di un corpo fisico bello brutto che sia calvo coi capelli basso alto questo è il mio veicolo dove io mi manifesto al mondo e posso fare esperienza quindi posso cominciare a vivere e non si sa bene per quanto ma comunque in questa vita lunga o corta che sia faccio esperienza quindi io anima che arrivo su questo mondo e dimentico lo scopo ma l'anima la conosce sempre ecco il famoso daimon ecco poi il famoso dharma che sta sopra il karma che ti dice ehi guarda che il tuo valore la tua luce è quella e non è che tu te ne renda conto sempre per forza alla fine tu fai esegui il tuo scopo tante volte senza neanche essere consapevole di quello che è il tuo grande disegno come Alan Berg quindi a questo punto per esempio io ti prendo una notizia uscita sul Corriere della Sera qualche anno fa ok tu pensa a quest'anima in Inghilterra a Leicester una ragazza di nome Atina di 13 anni purtroppo si ammala di tumore alle ossa in un anno se ne va i genitori terminate tutte le funzioni disperati decidono di smantellare la sua camera e non di lasciare la camera in modo di mausoleo come purtroppo spesso accade mentre vanno a smantellare la camera mentre tirano giù lo specchio da cui la loro figlia si è specchiata per 13 anni dietro lo specchio c'erano 3000 parole scritte dalla figlia per l'umanità in queste 3000 parole che hanno fatto il giro del mondo c'è tanta di quella sapienza tanta di quella profondità che non può essere una ragazzina di 13 anni ti dico solamente qualche frase per farti capire è come se lei sapesse già tutto quello che sarebbe accaduto e quindi lo scopo suo e ridiamo lo scopo era quello di dare questo messaggio che sicuramente ha colpito decine e milioni di persone mi sono convinto nelle varie 3000 parole sono tante ogni giorno è speciale vivetelo sempre tutti al massimo domattina potrebbe capitare una malattia mortale come è successo a me ma la vita è brutta solo se noi la consideriamo tale la felicità dipende da noi stessi perché è una direzione non una destinazione ricordate e ricordate anche che la vita è fatta di alti e bassi ma gli alti senza i bassi non avrebbero alcun senso pur ermetismo l'amore è raro è come il vento si può sentire ma non si può vedere non si può toccare e la vita è un gioco per tutti dove l'amore ricordatevelo è il premio sto aspettando di innamorarmi di qualcuno qualcuno a cui poter aprire il mio cuore ma so anche che nulla è per sempre non c'è bisogno che voi piangiate perché so che sarete sempre al mio fianco questa è una delle frasi che lei ha scritto però ecco che arriva lo scopo e così scusa se te lo dico è lo scopo anche di Berg così come è stato lo scopo di John Lennon sono persone che hanno degli incarichi così importanti che ripeto è sempre come dire è sempre chi rimane qua che ha ma chi se ne va sa già tutto non ha più quel problema come diceva Schopenhauer è il pensiero della morte che ci fa pure non la morte la morte stessa quindi quando interrompe la vita prima è che interrompe il suo gioco qui e se ne va scusa se adesso ti faccio una discressione di carattere molto molto come dire vero fucilato vivo ma te la dico lo stesso parlando di Alan Berg parlando di Alan Berg dico parlando di Alan Berg ed è un un testo che ho trovato che si intitola Silver Birch Silver Birch è il nome cosa vuol dire Silver Birch in inglese Birch non so cosa voglia dire Silver argentato o argento Birch B-I-R-C-H lo verifico subito Birch B-I-R-C-H H Betulla B-I-R-C-H Betulla d'argento Betulla d'argento questa entità altissima di nome Betulla d'argento compare per un anno intero al più potente medium che c'è stato in Francia che è stato Marcel Barbardur nel 1938 ok quindi si formano un gruppo di ricercatori che chiedono e tra le varie domande pensa che questo libro poi è molto particolare perché l'unico libro che ho che è scritto nella pagina sinistra in inglese nella pagina destra in italiano quindi è impressionante quindi un libro alto così ma che alla fine potrebbe essere la metà tra le varie domande ce n'è una che dice ma che corpo avremo noi quando andremo nell'altra dimensione che tipo di corpo abbiamo risposta di Silver Birch avrete un corpo ancora più percettivo e sensibile di quello che avete ora ma ricordatevi una cosa che il mondo reale è il nostro non il vostro ma di questo ve ne renderete conto solo ed esclusivamente quando tornerete da questa parte ecco a me sta frase mi ha sconvolto l'ho letta cinque anni fa e ogni giorno io ci penso il mondo reale è il nostro non il vostro ma ve ne renderete conto solo quando passate di qua e allora comincia a fare c'è il mio amico dottor Massimo Citro che è un grandissimo ricercatore che vive a Torino abbiamo tenuto delle conferenze insieme a un certo punto lui dice immaginate che appena arrivate al mondo vi mettono quelle maschere con dentro tutti i videogame proprio ve la appiccicano appena arrivati voi dopo un anno due anni che non ve la tolgono più per voi quello è il mondo non ce n'è un altro voi quando avete finito il vostro percorso quanto sia la sua durata ha poca importanza vi ritolgono quell'affare quella maschera e voi cosa fate? cazzo è vero che mi avevano messo la maschera appena arrivato cioè proprio realizzate proprio che il mondo reale non è questo ma è quello quindi tutto questo ti aiuta molto di più a affrontare Marco permettimi anche una cosa non posso non vedere da filosofo un'allegoria platonica dietro questo qual è il tema però? che quando sei arrivato alla fine della vita terrena esplori il mondo che lui chiamava iperuranio il mondo delle idee dove tutto è così assoluto che tutto ti è chiaro ed evidente anche la tua prigionia di prima nel momento in cui gente come te viaggia fuori dalla caverna delle illusioni e torna a raccontare agli schiavi quello che ha visto e sentito e viene osteggiato dagli schiavi questo ci racconta Platone è normale perché nel momento in cui la verità che tu racconti è così diversa da quello che la gente è disposta ad accettare come vero è ovvio che tu diventi il nemico non la loro limitata percezione ecco ma io ritengo che anche questo faccia parte dell'ordine delle cose io ritengo che tutto questo questo disegno l'apparenza imperfetto sia perfetto cioè è proprio tutto tu capisci che cosa voglio dire cioè anche questo fa parte della perfezione dell'organizzazione di queste cose quindi tutto deve essere incastrato sia nella parte buona che nella parte cattiva sia in quello che crede che in quello che ti ammazza sia in quello tant'è che un giorno e qua voglio narrarti quest'altro fatto che mi sconvolse parlando di bene e di male il mio maestro perché vedi il concetto di bene e di male di cui potremmo dedicare un'intera puntata è veramente molto opinabile e soggettivo però lui mi raccontò questa storia lui abitava ad Atene e lui ottenne il permesso di andare a parlare con un serial killer che era stato arrestato e messo in galera per tutta la vita con molta difficoltà l'avevano trovato perché questo uomo aveva ucciso otto vecchi uno tutti nessuno con nessuna movente o collegamento diciamo e quindi questi avevano faticato molto perché non è che c'erano eredità cose parenti niente l'unica cosa che li accomunava è che erano tutti assomiglianti erano otto vecchi che assomigliavano uno è stato ammazzato con le mani strangolato uno è coltellato in un parco uno morti proprio all'improvviso per strada così ok alla fine sono riuscito a trovare questo assassino e l'hanno messo in carriera lui dopo un sacco di tempo riesce a ottenere questo permesso e va a intervistare a parlare quest'uomo prende lo sgabello si avvicina e gli dice ma senta ma lei ma perché ha ucciso questi otto vecchi che neanche conoscevano non ne avevano fatto nulla in modo così efferato ma perché mi dica perché e quest'uomo gli ha risposto vede io quando ero bimbo dai 5 fino ai 10 anni a casa mia viviva il mio nonno paterno i miei genitori lavoravano e ogni volta che io tornavo a casa i miei genitori non c'erano mio nonno mi seviziava e ogni volta che finiva di seviziarmi mi diceva e adesso non dire niente papà e mamma perché si dici qualcosa io prima ammazzo tempo e poi ammazzo me tanto la mia vita me la sono fatta ci siamo capiti e quindi io vivevo nel terrore e ogni volta che uscivo di scuola cercavo una scusa per non tornare a casa certe volte la trovavo e ero felice altre volte non la trovavo e piangevo tornavo a casa e sapevo esattamente quello che mi sarebbe aspettato poi a 11 anni finalmente il nonno muore di un infarto io divento grande e una volta diventato adulto ogni volta che io incontro una persona che assomiglia a mio nonno mi viene ad ammazzarlo mi viene ad uccidere la più forte di me è un raptus capisce? è una cosa che non riesco a contenere mi sa una rabbia che io non riesco proprio a contenermi e sa una cosa spero che non mi diano mai due giorni di libertà perché se io esco di qui e ne incontro un altro l'ho ammazzo un'altra volta ha capito adesso perché? poi il maestro si girò verso di me e mi disse adesso Marco dimmi tu chi è il carnefice e chi è la vittima? e io lì sono rimasto bocca aperta a sentirlo chi è il carnefice? e poi nonostante questo siamo sempre nell'ordine delle cose perché anche qui il disegno il destino il programma dell'anima ha visto che quel vecchio sarebbe ha visto che quel giovane sarebbe perché tutto deve essere in funzione anche degli altri il mio maestro mi diceva quel bambino se n'è andato a dieci anni ha fatto soffrire trecento quattrocento persone perché così è l'ordine delle cose quindi come un sasso tirato in uno stagno che crea delle onde è andato a risvegliare anime assopite che devono fare il loro percorso e il percorso è necessariamente nel dolore non c'è altra strada che il dolore c'è quella bellissima leggenda che racconti nel tuo libro del frate che si sostituisce a Gesù Cristo in chiesa Serafino come va Serafino ha voglia di raccontarla perché secondo me è centrata su questo sull'inevitabilità di un percorso e la dovrei te la hai in libro leggi la tu perché per leggere la mente dovrei ce l'ho tre pieni di sotto perdonami l'imprecisione te la racconto come me la ricordo ma scusa tu di una frase a chi lo vada a prendere tu di qualcosa a chi lo vada a prendere ma io posso tenere anche tre ore di soliloquio se vuoi intanto permettetemi di ringraziare tutti coloro che sono collegati e mi stanno arrivando auguri di buon compleanno partendo da Maria Darri che scrive buongiorno belle persone buon compleanno Tova grazie Maria Claudia che scrive buongiorno tanti auguri Tova un bel benvenuto tra gli anta grazie Claudia Silvia auguri di compleanno 20 20 20 più 20 fa 40 Elena Bizzotto che scrive augurissimi Raffaele ciao a tutti il mio amico Alessio Contini che scrive tanti auguri Tova Arianna Soffici che scrive muchas felicità con lo spagnolo Arianna devo lavorarci un pochino muchas felicitades Tova grazie muchas gracias poi Stefano Ilari che scrive buongiorno e tantissimi auguri Tova Paride 24 che scrive auguri Tova grazie nota Elena anche il cambio di microfono vintage e fashion pensa che questo microfono l'hanno scelto i miei bambini e l'hanno scelto loro come mio regalo di compleanno quindi non l'ho selezionato io loro hanno detto questo è il microfono e io ho detto ma magari un altro no questo e di conseguenza questo da oggi sarà sempre il mio microfono preferito perché me l'hanno regalato i miei figli e mia moglie quindi mi piace molto vintage molto Elvis microphone spero suoni anche altrettanto bene in cuffia suona bene poi c'è il mio amico Franco Nicosia che scrive buon compleanno Raffaele grazie Natasha che scrive buongiorno a tutti e tanti auguri Raffaele grazie grazie poi che abbiamo cresciamo insieme che scrive buongiorno e auguri Gemma che scrive auguroni tova poi Antonio cupaiolo che scrive auguri grande Raffa Raffa scusami ti meriteresti un bel regalo nonostante tu un bel regalo me lo fai tutti i giorni grazie Antonio penso tu ti riferisca alle dirette e al canale Telegram di Chi Cercatova lo trovate su t.me slash Chi Cercatova o ricercando direttamente Chi Cercatova su Telegram e poi sempre Antonio scrive con te ho trovato mille ispirazioni e soprattutto con te ho trovato un pretesto per riniziare a studiare ancora auguri e grazie mille grazie di cuore non c'è messaggio più bello e quando mi chiedo perché fai quello che fai leggo commenti come questo mi dico questo è il motivo per cui faccio quello che faccio e poi chi abbiamo buon compleanno vate dal mio amico Armando Lupi grazie mi sento molto un vate però ti ringrazio ti ringrazio di cuore e poi chi abbiamo qua e eccolo qua Susi che scrive tantissimi auguri Tova sei super ti ringrazio Susi Giacomo Siska che scrive due persone che sorridono raccontando cose siete proprio fighi grazie grazie Giacomo e poi Elena Bizzotto che in commento alla mia risposta sul microfono risponde il microfono suona benissimo gran bella scelta ti ringrazio una cosa ho notato che i miei bambini soprattutto il grande hanno una velocità di scelta notevole sanno quello che vogliono e non lo mettono in discussione e quindi nel processo di scelta del mio regalo loro non hanno avuto dubbi hanno scelto questo microfono perché per loro era bello quindi non l'hanno scelto per motivi razionali quindi come suona quel microfono come lo puoi agganciare o altro infatti non so se avete notato ho dovuto smontarlo dal mio solito braccio e metterlo su un table stand quindi un supporto da tavolo e loro quando l'han visto hanno detto che bello quel microfono è il microfono perfetto per te papà l'hanno fatto ordinare oggi ieri sera è giunto questa mattina me l'hanno consegnato e quindi l'ho attaccato immediatamente per poterlo condividere con voi ed ecco ecco qua Silvia scrive i bambini tutto istinto ma non riesco a trovarlo perché c'è non riesco a trovare quella non riesco a trovare quella perché non l'ho messa in evidenza quindi dentro eccolo ho trovato eccolo qua vai raccontala perché è bellissima fai vedere la copertina del libro ricordati che ci sono 20 persone collegate in questo momento 20 persone compreranno il tuo libro tu guadagni una media di un euro e mezzo libro mi devi 30 euro di provisioni meno tra un anno è rotti tra l'altro scusami piccola parentesi non si scrive libri per diventare ricchi non si fa un podcast per diventare ricchi perché c'è una chiamata sei chiamato a raccontare una storia e quello è uno dei mezzi Fabio Volo Fabio Volo fa i soldi scrivendo libri non so però Fabio Volo ha un suo pubblico eh sì eh sì allora questo è per capire che l'ordine delle cose tante volte uno pensa di poterlo invertire ma è molto meglio lasciare le cose come devono andare un monaco di nome Serafino chiedeva con insistenza al signore di poter prendere il suo posto sulla croce poiché voleva condividere in tutto e per tutto la vita del Cristo un giorno Cristo accettò ma a un patto che tu stia zitto Serafino essendo un monaco abituato all'obbedienza e dunque all'osservanza del silenzio garantì tranquillamente al Cristo quindi Cristo scese dalla croce e vi salì invece Serafino entrò per pregare un uomo ricco e mentre pregava gli scivolò per terra il sacchetto del suo denaro l'uomo si alzò per andarsene e Serafino che aveva visto tutto avrebbe voluto avvisarlo però si era impegnato a tacere e quindi non disse nulla subito dopo entrò un uomo povero cominciò a pregare ma gli cadero subito gli occhi su quel bel sacchetto di soldi si guardò intorno non c'era nessuno che potesse vederlo e così prese il sacchetto se lo mise in tasca e scappò fuori Serafino avrebbe voluto dirgli che non doveva prenderli quei soldi perché non erano suoi ma si era impegnato a stare zitto e quindi tacque a questo punto entrò un giovanotto che si mise devotamente davanti al Cristo in ginocchio chiedendo aiuto e protezione dato che stava per mettersi in viaggio per mare in quel mentre entrò l'uomo ricco con i gendarmi dicendo che aveva lasciato in chiesa il sacchetto dei soldi l'unica persona presente in chiesa era quel giovanotto e quindi i gendarmi lo presero e lo arrestarono solo a quel punto Serafino non riuscì più a stare zitto e disse no è innocente immaginatevi la scena naturalmente in crocefisso salvò il giovane perché in forza di quella voce i gendarmi svolsero meglio le indagini e lasciarono andare il giovanotto che si imbarcò arrestarono invece l'uomo che aveva preso i soldi e che dovette restituirli al ricco alla sera il Cristo aveva la faccia scura e rimproverò seriamente Serafino dicendo eh no non va proprio bene così ma come signore io ti avevo detto di stare zitto ma ho rimesso a posto le cose ho fatto giustizia disse allora il signore no Serafino tu hai fatto un gran casino hai sbagliato tutto il tuo impegno era quello di tacere me lo avevi promesso invece parlando tu hai rovinato ogni azione quel ricco stava per fare un'opera cattiva con quei soldi e io glielo ho fatti perdere quel povero ne aveva bisogno e io glielo ho fatti trovare quel giovanotto invece adesso sta naufragando in mare mi aveva chiesto aiuto se fosse andato in prigione avrebbe perso la nave e non sarebbe morto e tu invece l'hai fatto liberare sei imbarcato e ora è annegato hai rovinato tutto non sei in grado di mettiti al posto del Cristo caro il mio Serafino anche se sei un monaco ricco di spiritualità la providenza di Dio guida le cose meglio di noi e soprattutto di voi anche quando sembra che le cose all'apparenza vadano storte bellissima bellissima qua mi viene mi viene la domanda perché mi metto nei panni del bastian contrario no quello che ascolta questo nostro podcast e dice si vabbè però io com'è che faccio se non con un prodigio che mi capita per strada come le lettere con Birdy Car che è successo a questo povero filosofo qua a capire che sono allineato il mio scopo com'è che faccio ad essere certo qua subentra anche un po' la fede naturalmente però come dice Matthew McConaughey ci sono dei momenti nella vita in cui sei nel flow nel flusso cioè qualsiasi cosa faccia ti sembra proprio naturale quando invece lotti controcorrente fai una fatica boia e non concludi niente com'è che faccio a sapere di essere nel mio flusso nella mia traiettoria ottimale come viene descritta in l'uomo che fissa le capre ti ricordi il film che dice ognuno ha il proprio destino se lotti contro il tuo destino varrai sempre contro corrente scopri il tuo destino e la corrente ti ci porterà come faccio a sapere che sono nella mia corrente guarda anche questo è un argomento che potremmo andare avanti le ore ma ti do la prima regola che dico sempre a tutti ricordati che tu hai un nemico uno solo e tutti mi dicono me stesso ovviamente no non è te stesso il tuo nemico sono gli altri gli altri gli altri ogni giorno che ti condizionano che ti dicono questo che ti dicono quell'altro e tu sei condizionabile e quindi alla fine tu non raggiungi il tuo scopo non trovi la tua strada perché ti fai condizionare dagli altri quindi il consiglio che ti do scegliti bene i tuoi compagni di viaggio immagina di essere su un treno sei su questo treno chi fai salire sul tuo vagone chi è che permetti di entrare nel tuo vagone chi fai salire nel tuo scompartimento quanto tempo ci starà nel tuo scompartimento tutta la vita a un certo punto lo fai scendere e le persone che vengono su vanno tutte bene o forse qualcuno è il caso che li fai scendere alla prossima fermata scegliti bene i tuoi compagni di viaggio perché gli altri sono sempre le persone che ti diranno che non mai è bene niente che c'è l'invidia che c'è la cattiveria gli altri sono gli altri quindi pensa a te stesso e vedrai che sarà più facile entrare nel tuo flusso non ti far condizionare in primis da tuo padre da tua madre io parlo ancora oggi con persone che hanno 40 50 anni c'è una mamma che le chiamano 5 6 volte al giorno sanno ogni cosa che fanno qualsiasi sono sempre lì a dirla loro e loro sempre lì a rispondere a raccontare questa è veramente follia per me basta cerca di diventare te stesso senza più pensare a cosa penserebbero gli altri mi sono segnato qualche frase che te la butto lì così ma proprio come se fosse qualche piccolo piccolo nocciolino per dire quanto ti stai impegnando verso i tuoi sogni quanto fatti la domanda e risponditi mi sto impegnando 0 5% e ricordati che le risposte che ti dai nel 90% dei casi sono alibi ricordatelo sono alibi seconda domanda seconda frase smantellati dai condizionamenti terza ricordati sempre che nella tua vita la domanda potenzia e la risposta depotenzia quindi poniti sempre domande nella tua vita sarai sempre forte una volta che ti sei dato la risposta riponitene un'altra ricordati che il controllo la parola contraria di controllo o controllato è magia cerca di essere far magia della tua vita ok e la magia vola sulle ali dell'altro non dell'ego ricordati anche questo ricordati che la tua grandezza è proprio nella tua diversità degli altri gioca quindi con la realtà in cui vivi e cerca di renderla personale e ricordati che questo pianeta che ci ospita non giudica nessuno permette a tutti di fare tutto quindi non dobbiamo mai avercela con questo mondo meraviglioso che ci ospita ma sono coloro che ci abitano che sono gli altri che ci rendono la vita da come non la vorremmo accetta tutto e non ti fermare mai accogli tutto perché la vita è alti e bassi non è solamente alti ma comprende tutte e due le parti alti e bassi questi sono i consigli che ti do meravigliosi sono sette regali di compleanno hai ancora qualche minuto per me gli ascoltatori volevo volevo chiederti così una curiosità personale tu l'hai letto il libro o visto il film il professore il pazza il professore il professore e il pazzo no me lo segno subito assolutamente allora io ho letto il libro non ho visto il film mi dico che il film è molto bello con Sean Penn e Mel Gibson a interpretare i due principali quindi Mel Gibson è il professore e Sean Penn è il pazzo fatto realizzare o che il pazzo fosse Mel Gibson che si prestava invece vedi ora storia realmente è accaduta su come è nato l'Oxford Dictionary il più l'opera più monumentale sì sì è incredibile è una cosa incredibile praticamente sul finire dell'Ottocento c'è una gara tra Oxford e Cambridge per creare il primo dizionario ciclopedico della storia della lingua inglese quindi quello che contiene tutti i lemmi della lingua inglese un'opera monumentale con tutte le applicazioni negli esempi eccetera eccetera non c'era internet non c'era Wikipedia non c'erano le risorse le email di adesso e allora l'Università di Oxford pubblica su un giornale una proposta di collaborazione agli attenti lettori chi di voi è disposto a prendersi tot parole tot lettere a disposizione indicando il significato di quelle parole e citando le fonti dove le hanno identificate partendo da A letteralmente A Un Angel eccetera eccetera fino a Z Zulu eccetera eccetera quindi è un'opera che ha coinvolto tutta la popolazione inglese pubblicano questa cosa e gli attenti lettori gli appassionati dell'epoca cominciano a dire ah guarda io mi prendo dalla A A A A P per esempio e cominciano ad arrivare queste cartoline e il professore interpretato da Meg Gibson ha il compito di raccogliere questa infinità di lettere per comporre l'Oxford Dictionary vede da un paesino nel cuore del Midlands inglese che arriva una quantità di contributi da parte di un professore un letterato che con la cultura incredibile tutti dallo stesso indirizzo dallo stesso professore collega stimato eccetera eccetera lui chiede a questo di incontrarlo perché dice lei sta dando il più grande contributo individuale alla storia della letteratura inglese dobbiamo incontrarci questo devia il percorso affinché dopo anni di relazione epistolare gli dà un indirizzo specifico questo parte da Oxford fa scalo a Londra lo raggiunge nel Midlands arriva a questo paesino segue questo indirizzo ci arriva in Carrotta si presenta a questo palazzo e arriva di fronte al direttore e dice è un grande piacere conoscere un collega letterato come lei dopo tutti questi anni decenni di relazione epistolare e questo gli dice no forse non ci siamo capiti io sono il direttore di questa struttura sanitaria e la persona che lei vuole incontrare è uno dei nostri più vecchi detenuti uno che aveva commesso un omicidio in preda ad un raptus da disturbo post-traumatico e l'unica cosa che ha concesso per via dei relazioni col governo americano è avere libri da leggere quello che ha dato il più grande contributo alla storia della letteratura inglese è un pazzo americano ricoverato in ospedale psichiatrico quindi storia storia vera storia vera incredibile te lo consiglio il film non so se è all'altezza del libro il libro è stupendo me lo sono già segnato quindi questo piccolo consiglio per gli acquisti ma volevo chiederti l'altro giorno via messaggio quando ti ho raccontato quella quella sincronicità mi hai mi hai citato Freud e Jung e mi è rimasta sta cosa qua nella testa infatti lo devo raccontare raccontamelo qua beh è un aneddoto molto conosciuto di quando finalmente Jung in virtù di tutti i suoi studi si reca da Freud dove c'era una nota antipatia in tolleranza in sofferenza soprattutto diversità di visione delle cose e cosa nota che i due si sedettero su due poltrone davanti alla libreria e lui spiegando la sincronicità e spiegando il significato di queste parole raccontando l'aneddoto dello scarabeo lui disse a Freud in quel momento vede la sincronicità è questa se adesso io le dicessi per esempio che entro 10 secondi noi sentiamo un colpo da qualche parte questo sicuramente è un fatto sincronico appena finiti parlare ci fu un botto nella libreria ma aspetta non è mica finita adesso questo lei potrebbe dire caro collega che questo potrebbe essere casuale ma se la cosa invece si dovesse ripetere fosse mai che si ripetesse a questo punto non potrà più essere casuale dico bene dottor Freud appena detto questa frase ci fu il secondo botto nella libreria che nessuno ha mai capito perché ci fu quel botto fatto sta che in quel momento lui non sapendo cosa rispondere si alzò Freud si alzò tutto stizzito sbattendo la porta lo lasciò da solo nello studio e Jung doveva tornare a casa sua per dire che non aveva non aveva risposte da dare perché tante volte noi non abbiamo risposte da dare su questi effetti però avvengono e quando la cosa si ripete c'è poco da fare come disse la grandiosa Agatha Christie una coincidenza è una coincidenza due coincidenze sono un indizio tre coincidenze sono una prova una prova a questo punto non puoi più giocarci tirarci intorno capisci senti allora tu a questo punto per alimentare la tua sacralità e prenderti gioco un po' di quelli che ti dicono ma cos'è un santone questo tra tutte le verità allora diventare ricco potresti dirmi una cosa del tipo in verità in verità ti dico prima che il sole sia tramontato su Londra tre saranno gli indizi sono un reporter io sono un reporter che per poter essere reporter deve farsi anche una cultura quindi io vi riporto notizie le verifico le vivo di persona ve le porto e ve le racconto poi se voi non mi volete credere il mio compito finisce qua nel senso che il mio compito finisce nel scrivere il libro poi se tu non credi a quello che ho scritto qua dentro ma va bene ma va bene ma io ho una curiosità sull'aneddoto di Jung e Freud nel caso di Jung è intercettato o creato mi spiego meglio è egli così aderente al proprio intuito da sentire quello che sta per accadere o è la sua volontà che lo fa accadere quell'effetto fenomenico guarda la domanda è altamente intrigante potrei dirti risponderti che cosa nota dei nuovi ricercatori che Jung fosse anche un medium si con capacità cosa meno nota e questo è un piccolo aneddoto che ti racconto chiudendo questa bellissima nostra podcast è che Giorgio Albertazzi era aveva due vite una era un grande attore l'altra invece era un potentissimo medium con delle capacità incredibili io ho delle testimonianze assolutamente sue delle sue capacità non ti sto a dire questo ti sto a dire semplicemente che nei primi anni lui in giovinezza aveva meno di 30 anni si recò da Jung che era ancora vivo siamo nel 1952 53 andò fino in Svizzera a cercarlo e cominciò a raccontargli di tutte queste sue capacità che ripeto sono potentissime non sono cosette e camminando i due arrivavano questo lo racconta Albertazzi i due arrivarono fino al muro vicino della villa di Jung e fermandosi Jung guardò Albertazzi e disse vede quello che lei sa quello che lei vede è oltre questo muro non si fermi non torni mai indietro lei continua ad andare sempre oltre continui sempre a indagare e questa frase lui lo colpì tantissimo come un'esortazione poi cosa successe che alla fine degli anni 60 dopo che lui aveva fatto più di 10 anni di sperimentazioni che arrivano veramente è arrivato a provare anche la sua bilocazione cioè stiamo parlando di cose che padre Pio e pochi altri a un certo punto lui smise perché gli altri gli avevano detto che avrebbe compromesso la sua carriera artistica di mattatore del teatro quale è diventato quindi questo per dire che purtroppo poi non ha fatto quello che doveva fare ecco è rimasto un po' in ombra questa sua parte però nei primi anni decenni della sua vita erano potentissimi e ha fatto cose incredibili anche questo io ne parlo spesso nelle mie conferenze questo per dirti che Jung è stato ed è un grande un grande uomo apripista meraviglioso e da considerarsi nella tradizione dei mistici al pari di Pitagora che nelle scuole italiane viene insegnato come un matematico ed era il fondatore della più grande scuola iniziatica di 2600 anni fa dell'antica Ellade quindi anche dare una rappresentazione nominalizzazione diversa la storia che crediamo di conoscere apre la mente a differenti versioni a differenti possibilità senti Marco tu mi hai fatto una promessa solenne di essere sempre ospite una volta a settimana ogni lunedì perché noi noi vogliamo trasmettere questa positività al mondo e visto che tanta gente si sveglia la mattina e fa stretching noi vogliamo cominciare ogni settimana con un bel stretching per la mente per le emozioni per far cominciare alla grande ogni settimana lunedì 23 alle ore 12 alle ore 12 io ti ringrazio perché con la tua presenza hai creato un valore enorme c'è gente che dice guarda se non basta uno di libri di Marco ne compriamo due a testa qua nei commenti qualcuno che dice guarda l'ho già comprato perfetto allora io ti ringrazio tanto per la tua presenza per la tua conoscenza ti ringrazio per i tre ore e mezzo che ho guadagnato già se mi offri un caffè vai già in perdita senti grazie grazie ancora io saluto tutti coloro che fai un bellissimo compleanno con la tua famiglia alla grande grazie grazie rimani qua che saluto e poi ti saluto privatamente rimani qui un secondo ringrazio tutti coloro che ci hanno fatto compagnia in questa direzza ringrazio Marco per la cultura la conoscenza l'ispirazione le emozioni che ci ha donato poi privatamente vedrò di rispondere a tutti coloro che mi hanno scritto anche su Telegram grazie ancora questo è un compleanno davvero speciale per me ed è speciale perché l'ho trascorso con le persone che amo e facendo l'attività che mi fa battere più il cuore qui Raffaele Tovazzi per gli amici Tova e questo è Chi cerca Tova grazie a tutti grazie a tutti